Musica Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano Un'azienda del settore del mobile aveva ottenuto finanziamenti pubblici per 2,4 milioni di euro truccando i bilanci ma poi è fallita a scoprirla la guardia di finanza di Pordenone tra gli indagati i due titolari e il commercialista che aveva architettato la truffa disposto nei loro confronti un sequestro per equivalente di 839.500 euro Tre indagati per truffa e un sequestro preventivo di oltre 800.000 euro è il risultato dell'indagine che la guardia di finanza di Pordenone ha avviato nei confronti di una società per azioni attiva nel settore della fabbricazione di mobili per arredo. Nell'ambito degli incentivi previsti per il mondo imprenditoriale alla SPA erano stati concessi finanziamenti per quasi 2.400.000 euro Da un capitale sociale di soli 10.000 euro in poche settimane era passata a 800.000 euro facendo subentrare peraltro nella compagine sociale come socio di minoranza la stessa finanziaria regionale Friulia SPA. La società ha poi ottenuto altri finanziamenti ad esempio per l'acquisto di un costoso macchinario produttivo del valore di oltre 2.000.000 euro e un ulteriore finanziamento di 500.000 euro da Friulia SPA. Dopo pochi mesi il Consiglio di Amministrazione ha presentato però domanda di concordato preventivo, peraltro omettendo di presentare piani e proposte concordatarie. Il 2 marzo 2018 è stato pronunciato il fallimento. Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno rilevato come la società avesse simulato l'aumento del capitale in modo da apparire florida e fiorente. All'atto delle sovvenzioni regionali Versava invece in condizioni di dissesto. La vicenda vede ora indagati due soci dell'impresa e il commercialista che ha redatto una perizia per i reati di truffa gravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e formazione fittizia del capitale. Ancora cronaca, un quarantenne residente a Napoli è stato arrestato dalla polizia di stato di Pordenone. Aveva cercato di ottenere un finanziamento al centro commerciale Gran Fiume presentando un documento falso ma gli è andata male. Truffatore seriale, questa la dicitura che appariva nel sistema informatico per accedere ai finanziamenti digitando il suo nome. Per questo in un negozio di elettrodomestici del centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto hanno subito allertato la polizia che è arrivata sul posto con una volante e ha fermato l'uomo che stava lasciando il negozio scoprendo che non era chi diceva di essere. Il fermato, un quarantenne italiano residente a Napoli attorno alle 20 di giovedì sera, come raccontato dai dipendenti del negozio, aveva richiesto il finanziamento per l'acquisto di playstation e di un pc per un valore totale di 2000 euro. Utilizzando però la documentazione intestata a un'altra persona e in particolare una carta d'identità valida per l'espatrio, le cui generalità risultavano inserite nel sistema informatico per accedere ai finanziamenti quale persona con comportamento anomalo, ovvero truffatore seriale. Alla luce dei fatti accertati e sussistendo nella flagranza, il quarantenne è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Indagato per il reato di tentata truffa è posto a disposizione del PM Monica Carraturo, che nella mattinata di oggi ha legittimato l'arresto e disposto la sua liberazione. Nei confronti del quarantenne il questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Pordenone per tre anni, provvedimento immediatamente notificato ed eseguito. Passiamo all'economia. Un quarto dei dipendenti dell'Electrolux di Porcia, in larga parte operai, si è espresso positivamente sulla piattaforma presentata dai sindacati per il rinnovo del contratto integrativo. Su 585 colletti bianchi, solo 7 al voto. Il documento sarà presentato all'azienda dopo i risultati di tutti gli stabilimenti italiani. A votare positivamente per la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo 2020-2022, proposta per i dipendenti dell'Electrolux dal coordinamento nazionale delle tre sigle sindacali, FIM, FIOM e WILM, nello stabilimento di Porcia è stata circa la metà degli operai, mentre gli impiegati hanno di fatto snobbato le richieste. Questo è quanto emerge dal referendum sottoposto ieri ai dipendenti e scrutinato oggi. Alla base del sondaggio, sul piano economico, c'era un aumento di 1300 euro annui in busta paga, da poter convertire su base individuale e volontaria in una riduzione dell'orario di lavoro, una maggiore formazione e nuovi interventi sul piano della sicurezza e della salute, come una migliore climatizzazione del posto di lavoro, l'istituzione di una commissione welfare e un regolamento delle ferie solidali. I risultati sugli 843 operai erano presenti in 758 e hanno votato in 392. Tra i colletti bianchi, su 586 persone, di cui 545 presenti, si sono presentati alle urne solo in 7. In tutto, su 1429 lavoratori hanno votato in 399. I sì sono stati la stragrande maggioranza, 357, contro i 32 no. 9 le schede nulle e una quella bianca. In pratica, un quarto dei dipendenti ha approvato il documento. Risultato simile nello stabilimento Veneto di Susegana, formato per lo più da operai, dove su 1023 dipendenti, 860 i presenti nel momento del referendum, hanno votato in 353, con 339 sì e 14 no. Via libera dunque per un terzo dei lavoratori. Numeri che ora le sigle sindacali attendono di integrare con i prossimi risultati del voto negli stabilimenti di Solaro, Forlì e Cerreto. Come prevedibile, spiega Walter Zoccolan, rappresentante RSU di Electrolux Porcia, gli impiegati non si sono sentiti molto coinvolti, ma la risposta degli operai è stata buona. Ottenuti i dati complessivi, il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e UILM ufficializzerà la proposta all'azienda, la quale nel giro di qualche settimana dovrà dare una risposta e presentare la propria piattaforma. Parliamo ora di politica internazionale. In Iran la situazione è drammatica, con scontri di piazza e popolazione ridotta alla fame. A parlarne con preoccupazione è Tahir Jafarizad, presidente dell'associazione Nedadei di Pordenone ed Esule iraniano. Il 15 novembre di quest'anno è scoppiata una rivolta quasi in tutte le città iraniane. La stampa internazionale ha messo in evidenza l'aumento del prezzo del petrolio, della benzina praticamente per la popolazione. In realtà la benzina è stata la causa scatenante della rivolta. I problemi fondamentali quali sono? Uno, l'aumento della disoccupazione. Due, l'inflazione. Tre, la corruzione dilagante. Oltre a questo la moneta del paese ha perso più del 300% del suo valore. Poi oltre a questo da 40 anni che stanno facendo le elezioni finte, per cui la gente non ce la faceva. È scesa per la strada. Anche il presidente della Repubblica dell'Iran, pochi giorni fa, ha dichiarato che appunto l'Iran avrebbe trovato dei giacimenti equivalente a quasi 53 miliardi di barili di petrolio. Ma com'è possibile una nazione così ricca che la sera fa fatica a trovare un pesto di pane? Motivo per il cimpe che la gente è scesa a combattere contro il regime corrotto della Repubblica Islamica è stata la fame e niente altro. Si intravede quasi un nuovo Venezuela in questa situazione. Cioè praticamente noi non possiamo dire che Venezuela sta diventando peggio, perché dalla Venezuela ogni tanto arriva qualche informazione, però purtroppo dall'Iran non arriva niente. Se davvero non vogliamo avere degli immigrati in Europa, che verranno questa volta milioni, non solamente dall'Iran e dall'Iraq, anche da altri paesi limitrofi, dobbiamo smettere di vendere degli armamenti ai paesi che aiutano al terrorismo internazionale. Cambiamo decisamente argomento. Il comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha presentato oggi il calendario 2020. 12 mesi con protagonisti i mezzi pesanti del soccorso immortalati negli scorci più belli del friulio occidentale. Il ricavato andrà a sostenere la neonata associazione Santa Lucia che si occupa di persone disabili. 12 mesi in compagnia dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Per il sesto anno il comando provinciale ha dato alle stampe il calendario. Nel 2020 i protagonisti i mezzi pesanti dei soccorsi, ovvero i giganti Rosso Fuoco, come li chiamano i bambini. Le foto sono accompagnate da testi estratti dal libro 115 storie intorno al fuoco. L'offerta è libera ed è già corsa ad accaparrarsi una delle 1200 copie stampate che si possono ritirare al comando di via interna. Abbiamo realizzato delle immagini in cui ci sono quello che la gente vede sfrecciare oppure fermarsi in una zona, in uno scenario di tipo operativo, cioè i nostri mezzi, quelli rossi, quelli che si vedono quando passa un mezzo rosso sono i Vigili del Fuoco. E li abbiamo inseriti in immagini paesaggistiche di pregio della provincia in modo da collocarli proprio nella collettività. Il ricavato andrà alla neonata associazione Santa Lucia che segue sette persone disabili e vuole aprirle al mondo. Il progetto è nato cinque anni fa in seno alla Clubhouse dell'All Black Pordenone Regdi e in questi giorni si è trasformato in associazione, un modo per strutturarsi e dare un futuro alle persone seguite. La nostra associazione nasce da un'idea dell'azienda sanitaria di creare delle WET, sono unità educative territoriali che sono sparse nel territorio. Noi genitori abbiamo cercato insieme con gli operatori anche di farli uscire piccole gite dove loro veramente sono rinati. E' tutto per questa sera, dopo di noi il quiz Lo Sapevo condotto da Alexis Sabot. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone è per lunedì alle 20.45. grazie per essere stati con noi e buon weekend. Grazie per aver guardato il video.